Si lascia andare, scorre un flusso di emozioni, una piena, lì a qualche scalino dallo scivolo che rappresenta l'ingresso in una dimensione diversa, l'acqua la fa fluttuare, gli impedimenti fisici scompaiono, l'infinito panorama degli abissi accoglie ad una ritrovata legge Adria, qui il parere inopportuno, lo stigma sociale non può trovare posto, Valentina piange prima di immergersi e un breve e inaspettato momento di cedimento, un pianto liberatorio, di gioia e attesa. Il cuore batte forte, si torna in acqua come da ragazzina a scrutare gli scogli e tutta la bella fauna che abita le profondità e il potere del mare associato alla precisa preparazione per la subacquea. Da settembre che faccio questa attività ed è bellissimo, sembra di volare, andavo sempre vicino agli scogli quando stavo in piedi perché io non è che sto sulla carrozzina da molto tempo, sono molto protettivi diciamo. Diciamo che c'è una famiglia su terra e una seconda famiglia sott'acqua, ci piace dirlo così. Sì, sì, poi mi aiutano in tutto, comunque io da sola non posso andare sott'acqua quindi sto imparando e ce la faccio. Da qualche anno ormai attraverso le nostre telecamere mostriamo come cresce l'attenzione e l'interesse verso un mare che sia davvero per tutti, potrebbe essere un nuovo slogan. Un'attività interessante a Taranto la svolge la Enjoy Your Dive, attraverso la disabilità motoria si sconfiggono molti ostacoli perché questi ragazzi vanno sott'acqua, ci vanno davvero con dei professionisti del settore. A che anno siamo arrivati di attività e quali soddisfazioni arrivano da queste attività? L'attività la svolgiamo da circa 4 anni personalmente, l'ho portata a Taranto da circa un paio d'anni, da quando poi è nata l'associazione Enjoy Your Dive. Lo scopo, l'obiettivo è quello ovviamente, come dicevate voi, di favorire l'inclusione. Noi abbiamo già incontrato Luca Pellicoro in alcune piscine del territorio tarantino nei mesi invernali, siamo adesso all'estate, come i ragazzi da zero, da non conoscere la subacquea riescono poi a prepararsi per entrare in acqua. Ci sono degli standard da rispettare, delle regole ovviamente a maggior ragione per loro che hanno sostanzialmente delle disabilità motorie. Dopodiché gli facciamo provare l'attività, magari si iscrivano per il conseguimento di un brevetto per andare sott'acqua. Quanti iscritti avete? Attualmente siamo una sessantina in associazione. Ci piace anche in tal senso dare maggiore spazio alle diverse tipologie di disabilità. Quando si parla di quella intellettiva, ad esempio, in relazione sempre al mare e all'acqua, le attività sono diverse. Per standard non può venire sott'acqua, però può fare comunque delle attività che possono essere un inizio di apnea, piuttosto che di snorkeling.